Il movimento di liberazione della donna lotta contro i ruoli. Le ruolizzazioni bloccano gli individui, sono altrettanti letti di procusta in cui le persone vengono costrette a stare entro misure che non sono certamente congeniali alle persone. E quindi niente ruoli, niente determinazioni pre-stabilite, niente donna debole e uomo forte perché gli uomini hanno diritto di essere deboli, di piangere, di lamentarsi, di essere umani come le donne hanno diritto di essere forti e robuste e citiamo sempre questi esempi a rovesciamento dei ruoli classici e tradizionali. Quindi fantasia e libertà dei ruoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.